Benvenuto ad una nuova puntata dedicata alle interviste del Marketing Garage, l'officina dove nascono le migliori idee di marketing. In questo format intervisterò solo imprenditori, direttore marketing e professionisti della comunicazione del marketing che hanno dimostrato di saper ottenere risultati significativi nel loro campo. Io mi chiamo Gianluca Testa e da oltre 20 anni sono un imprenditore consulente del settore marketing e digital, founder di alcune realtà come For Incentive, For Contest e Memo Brand. Oggi siamo in compagnia dell'imprenditore Paolo Badano. Grazie Paolo per essere passato dal Marketing Garage. Grazie a te per avermi invitato. Paolo è un imprenditore che ha guardato le difficoltà in faccia, negli occhi e ha saputo creare un prodotto veramente innovativo che io la definisco, non so se gli piace questo termine che non glielo mai chiesto, la lambo delle carrozzine. Non so, è piccato perché rende l'idea e vedremo come ha sviluppato questo prodotto e il livello a cui è arrivato fino a questo momento. Tu come lo definisci come prodotto? Che tipo di prodotto è? Perché è rivolto alle persone diversamente abili, ma forse non solo, vedremo anche più avanti. Sì, è più complesso di così. Parte da una sede a rotelle, parte da un mio problema, è chiaro, una paraplegia più di 26 anni fa. Tutti hanno ben chiaro che cos'è una sede a rotelle, però ora tu dici una lambo, si parla già di design e associare design a una sede a rotelle è veramente un ossimoro. Siamo abituati molto, o meglio, fino a oggi la disabilità ha lasciato la risoluzione dei problemi o alla medicina o all'ingegneria pura, dove l'ingegneria pura lavora sulla risoluzione del problema, ma non sicuramente nell'immissione di design all'interno. Basta, io faccio sempre questo esempio, basta guardare un bagno per disabili per capire che lì il design non c'è mai entrato. È tutta funzionalità, però è orrendo da vedere. Nessuno vorrebbe un bagno per disabili in casa. In realtà tutti servirebbero i maniglioni, per esempio, vicino alla doccia, perché molti finiscono in sede a rotelle, devo dirle, io non ho conosciuti tanto, uscendo dalla vasca scivolano e battono la schiena. Se ci fosse una maniglia, questo problema magari sarebbe risolto, ma questa maniglia se non è fatta con un design che vada a inglobarsi dentro un bagno moderno, nessuno metterebbe mai un maniglione bianco dentro un bagno. E quindi hai toccato un tema abbastanza delicato che non è così facile dire che cos'è Jenny. Questo è il nome del prodotto. Jenny, il nome del prodotto. Adesso faremo questo viaggio in cui ci spiegherai tutto. Tanto mi hai detto che questa è la prima versione. Sì, qui ho portato la 00 di quasi 13 anni fa. Ci sono talmente affezionato che faccio in pratica, nonostante ne ho parecchie e ho anche le ultime, le ultimissime, ma questa è, da dove è iniziato tutto, è questo, proprio questa. E chiedo alla regia poi di mandare degli spezzoni di un video che ho visto che hai fatto uscire, dell'ultima, che modello siamo arrivati alla... Zero si chiama. Zero, ok. Jenny zero. Jenny zero. Perché si riparte da zero. Perché si riparte da zero. Perché è veramente impressionante. Quindi mi fa piacere che vederlo, perché così capiamo di cosa stiamo parlando. Sì, perché senza avere il contributo visivo sembra un matto che parla di carrozzine che invece forse non vengono usate solo da persone con disabilità, ma forse anche dalla normalità sembra veramente un matto senza... Infatti il contributo che faremo vedere aiuterà da questo punto di vista. Invito chi sta ascoltando il podcast in questo momento di guardare anche il video su YouTube, così... Sì, se no sembro solo veramente un matto che parla. No, no, non sembra assolutamente un matto. Parafrasando un po' i libri di Taleb, di il cigno nero è antifragile, mi sembra proprio di riconoscere che tu sei proprio l'emblema perfetto. Nel senso, perché il cigno nero perché da un momento all'altro ha incontrato quell'evento improvviso che ti cambia la vita di fatto, le prospettive. Dall'altro però si può reagire in tante maniere. Si può essere fragili, si può essere robusti, si può essere antifragili. Tu penso proprio se è l'esempio perfetto di questa antifragilità. In questo percorso, perché uno di solito poi vede il risultato finale, il prodotto finale e sembra tutto facile dall'esterno, ma è stato veramente così facile. Come è stato questo percorso da questo cigno nero a quando è deciso che avresti fatto l'imprenditore e hai avuto in mente di lanciare Jenny? Sì, beh, io ho 54 anni, quindi una domanda molto complicata questa perché entra veramente dentro un problema grandissimo che è intanto l'accettazione della disabilità e l'accettazione di una parte, un cigno nero, di una parte sfortunata. Nessuno vuole una disabilità, arrivano e poi la devi gestire, ora io non so se l'ho gestita bene o male, però mi ci sono trovato come tante altre perché comunque io ho perso i genitori molto giovane, quindi mi sono trovato solo con una disabilità che è ancora ancora più complicato e forse è anche questo che poi mi ha spinto di più a cercare un prodotto che mi potesse aiutare in questo processo di ritornare all'autonomia, no? Cioè, perché se devo dire che cos'è che cerca il popolo delle disabilità in generale è quello di ritornare a un'autonomia, fare le cose da soli, no? Senza l'aiuto di nessuno. Questo, ti interrompo, questo è il, viene detto nel marchio, il job to be done, cioè quello che effettivamente è il bisogno che è da soddisfare, ecco, quindi tu sei partito da questo praticamente? Io sono partito egoisticamente, anzi, se parlo di Jenny proprio io non cercavo un mezzo, diciamo un mezzo, un prodotto, ecco, io non stavo cercando un prodotto, di inserire un prodotto, io cercavo solamente un qualcosa che mi aiutasse a vivere meglio e a fare meglio quello che è svolgere le azioni quotidiane. Ma questo perché? Perché parte da un problema, intanto, poi oggi, vabbè, conosco migliaia di persone in sede rotelle, vi posso dire, in tutto il mondo, vi posso dire che è un problema, anzi, addirittura anche i welfare di mezzo mondo si sono accorti di questa cosa. Cioè, chi è, diciamo, seduto su una sede rotelle dopo un tot di anni che spingi una sede rotelle, che cosa succede? Succede che il rotatore delle spalle e i gomiti e quelli soggetti al movimento vanno in usura. Perché? Perché non sono preposti a fare un movimento così costante e faticoso, non sono le gambe che sono molto più forti, no? E quindi le braccia vanno in usura. E cosa succede questo? Succede che intanto, io vengo dagli anni 90 come incidente, quindi come riabilitazione, il mondo medico ha sempre spinto, dicendo, tu hai gli arti superiori che funzionano, spingi che ti fa bene, no? Spingi, torna alla vita attiva, quindi usa una carrozzina attiva, spingi, però spingi, fai sport. Io facevo atletica quando ero giovane, sono tornato a fare atletica in carrozzina, principalmente i lanci, anche i lanci disco, giavellotto, tra l'altro devo essere ancora primatista italiano di disco di giavellotto, mi sembra, dopo 20 anni o 26 anni sono ancora primatista italiano. Però questo accelerava, cioè perché se devo lanciare, devo spingere, devo andare al bar, e tutto viene fatto con il rotatore della spalla. A un certo punto della mia vita, dopo circa dieci anni che spingevo la sedia, cominciavo ad avere dei dolori alla spalla lancinanti, non mi facevano dormire di notte, e quindi io cominciavo a dire, avevo perso i genitori, e quindi ero solo, cominciavo a farmi male alla spalla, e dicevo, ma come sarà la mia vecchiaia e il mio futuro se neanche riesco a spingere una sedia a rotelle? E quindi ho cominciato a pensare a un qualcosa che fosse più vicino a darmi una mano nella vita quotidiana, ma nel contempo stesso che non fosse una sedia a rotelle classica, come conosciamo noi, elettrica, joystick, quei macadam enormi, che non mi aiutavano poi in realtà, e poi se andiamo a vedere, cercavo anche un qualcosa di, come dire, dinamico, dinamico, poi mi è venuto l'idea di metterci il design, di fare altre cose, ma all'inizio cercavo solo tecnologia pure, cercare qualcosa che mi desse velocità negli spostamenti e vi discorrendo, e quindi l'idea è partita di lì, cioè semplicemente dalla necessità di un momento che non riuscivo neanche a usare la sedia a rotelle normale, diciamo, un giorno era a Saravalle, qua nell'outlet, ero fuori, è passata la guardia giurata su un segway, no? Ah ecco, quindi c'è il momento, lo spunto che... È passata una guardia giurata su un segway, a un certo punto ritorna, lo fermo e dico, ma che è sta roba? Sì, l'avevo visto forse in televisione, però questo segway era questa biga due ruote che si guidava in piedi e si muoveva magicamente, andava avanti e indietro e non aveva rotelline davanti, non aveva niente, e quindi rimasi veramente rapito, gli chiesi se era mai caduto, cominciai a fare delle domande un po' strampalate, no? Mi disse no, guarda, lo uso tutti i giorni, vado avanti, autonomia, come tutte le volte le idee quando arrivano poi si insinuano nella testa, è un disastro, vado a casa, vado su internet, vado a cercare, sedi a rotelle, dico sicuramente c'è qualcosa, qualcuno avrà fatto questa tecnologia, avrà fatto qualcosa del genere, vado a cercarlo, non trovo niente, trovo la storia di segway, di questo Dean Kamen, questo americano plurimiliardario che aveva inventato questa tecnologia, mi ricordo che avevo letto già che era costata 100 milioni di dollari svilupparla in fine anni 90, 180 brevetti a livello mondiale e rimasi fascinato da questa tecnologia perché effettivamente dentro, stiamo parlando 23 anni fa, e dopo la ricerca non trovai assolutamente niente e quindi cominciai a cercare il distributore italiano ed era a Ravenna, mi misi a telefonare, dice buongiorno sono un disabile, ho visto la vostra tecnologia e volevo sapere se state sviluppando una sedia a rotelle con questa tecnologia, mi disse no guardi assolutamente no, mi spiegò che è coperta da brevetti americani e bla bla bla, che c'è tutto un iter per aver, e gli disse, dopo lo lasciai parlare, gli disse guardi ne vorrei comprare uno, e lui mi disse non glielo posso vendere perché adesso so che lei è disabile e quindi io non glielo posso vendere, la storia quando la racconto ai ragazzi, dico sempre se fossi stato un tedesco la storia finiva lì, ma essendo un italiano, disse alla mia segretaria di comprarne uno, poi me lo portarono a casa, io cominciai a smontarlo, ci misi sopra un banale sgabello di legno, ci saltai sopra e di lì mi si è aperto un mondo nuovo perché mi dava la libertà che non ho mai avuto e quindi di lì è nata tutta la storia. E il nome Jenny Mobility come nasce? No lì nasce, lì è più, lì c'è stato il momento in cui quel mezzo lì a me ha cambiato veramente la vita, ma non in senso che mi ha dato, perché io il lavoro ce l'avevo anche prima e via di scorrere, anzi negli ultimi anni mi ha sconvolto la vita più che altro, no mi ha cambiato talmente in meglio la vita che cercavo un nome che per me volesse dire qualcosa e gli esseri umani quando vogliono bene a qualcosa di inanimato come soprattutto sull'elettronica o su qualcosa si tende a dare nomi propri per umanizzare un po' lo strumento tecnologico, io ho cercato un nome che fosse caro a me, poi durante un'intervista, una delle prime interviste una giornalista disse sì ma lei mi dica perché ha dato il nome Jenny, dico guarda è una cosa personale vorrei non dirlo, mi diceva no ma lei deve dirlo, allora io poi ho un carattere molto bello e quindi disse vabbè allora se la mette così proprio non lo diciamo e da quel giorno lì non l'ho mai detta a nessuno, non lo sanno neanche i miei soci, Nicchi lavora per me, è una roba che rimane, adesso sembra che me la voglio tirare, che non voglio dire il nome ma in realtà è nata per gioco e adesso ormai è diventato qualcosa che devi non tenere in segreto, esatto. E Jenny, si chiama Jenny, però principalmente non volevo chiamarlo technology o un qualcosa legato alla tecnologia, Jenny? Il percorso immagino che sia stato impegnativo in questi anni per riuscire ad arrivare alla Jenny Zero che abbiamo visto adesso nel video, beh, ti è capitato di fare degli errori durante il percorso? Cioè, dire impegnativo, ecco se guardo, io sono sempre verso dire, sono sempre quello che manca, cioè non mi accontento mai, sono sempre, non ho fatto abbastanza, devo fare ancora, però ogni tanto mi fermo a guardare indietro, effettivamente da quando telefonai a quel concessionario di Ravenna, devo dire che un po' di strada l'ho fatta, perché da non conoscere nulla di quella tecnologia, andare in America, conoscere Dean Kamen, avere i 180 brevetti, perché poi io ho avuto anche, cioè io sono dovuto andare in America a parlare con lui, l'ho convinto ai tempi a darmi in uso i 180 brevetti in campo medicale, che prima di venne aveva Johnson & Johnson, qualcosa di enorme, che aveva fatto una sede a rotelle autobilanciante, aveva speso 70 milioni di dollari e ne aveva vendute 900 in 13 anni e quindi dicevano, vabbè guarda se non ci riusciamo noi dalla lui, come dire, chi se ne frega. Quindi di lì farci un'azienda, tornare in Italia, poi io sono perenemente alla ricerca di soldi, come tutti gli imprenditori hanno sempre bisogno di soldi, le idee le abbiamo, manca il credito. Il problema è fare le cose, l'esecuzione e poi i soldi, che comunque è un'attività. Soprattutto nel mio mondo, perché nel mondo hardware, nel mondo fisico in cui non piace più nessuno investire, tra le altre cose, che ricordo che è quello che dà posti di lavoro, piacciono tutte le quattro app con quattro nerd sotto una scrivania che fanno milioni di dollari, ma in realtà sono poi pezzi fisici che si vendono e si usano, però gli investitori non piacciono. Ancora di più da questa parte del mondo, perché poi dall'altra parte del mondo magari è anche più facile trovare investimenti. Quindi io ho sbagliato anche tipo di investitore, non ne parlo male, anzi un fondo di investimento che avevamo obiettivi completamente diversi, che ha portato poi chiaramente a strade diverse, fino poi chiaramente chi ha più soldi vince, a licenziarmi dalla mia azienda, come spesso accade. Vabbè hai tutta la storia perfetta. Ma no, va a stare fatta benissimo. L'azienda è fallita nel 2017 a Lugano, hanno portato i libri in tribunale, io ho trovato un gruppo svizzero, la famiglia Fuschläger che tra l'altro ringrazio ancora pubblicamente perché comunque sono quelli che hanno creduto più in me ormai cinque anni fa. Abbiamo ripreso i brevetti, il nome, quello che avevo fatto in tutti gli anni precedenti, però io ho detto ok, io riparto, era il 2018, io ho detto riparto, più motivato di prima perché ora sono molte cose che prima non le sapevo, però dobbiamo avere tutta la tecnologia in mano perché gli anni precedenti, lavorando con gli americani, con mezza tecnologia e molti brevetti miei sopra e 180 brevetti sotto in cui non potevo toccare nulla di quello che era la loro tecnologia, non potevo inglobare la tecnologia, faceva sì che io avevo sempre un ibrido in cui ne comandavo un 50% ma l'altro 50% io non lo comandavo e quindi ho detto ok, va bene, ma io voglio rifare tutta la tecnologia e ripartire da zero, è lì il nome zero, ripartire da zero con una macchina che sia a 360 gradi nostri, c'era qualche dubbio dire ma siamo sicuri che riusciamo a fare, anche perché abbiamo capito che cosa c'era in gioco, cioè Segui ha speso 100 milioni di dollari negli anni 99, quindi voglio dire non è una roba semplice, tenere in equilibrio su due ruote un mezzo, no? E io ho detto no, si può fare, perché? Perché avevo, devo dire che l'apertura e le conoscenze che ho fatto in tutti gli anni nel mondo dell'autobilanciante, dell'elettronica, della meccanica, ho cominciato a capire che c'era la possibilità di rifare qualcosa, anzi di migliorare qualcosa. Infatti ad esempio ho visto un video che avevi fatto che le nuove schede elettroniche, ad esempio la vostra ha 8 giroscopi invece che 5, quindi avete migliorato. Chiaro, noi poi abbiamo portato all'interno 20 anni di avanzamento tecnologico. Solo una cosa, solo una cosa. Esatto, e perché ha chiuso Segway? Ha deciso di non produrlo più? Allora, Segway è una storia, come tante storie, è uno dei 50 peggiori investimenti della storia, Segway, no? Ma se ci ragioniamo un attimo capiamo anche il perché, è anche lo scenario, no? Cioè tantissime rivoluzioni tecnologiche, innovazioni tecnologiche arrivano nei tempi sbagliati. Cioè oggi Segway sarebbe un mezzo eccezionale. Cosa stiamo parlando in questo periodo, in questa parte del mondo anche? L'abbandono dell'endotermico, l'abbandono dell'auto, la micromobilità, la sostenibilità, l'elettrico, l'elettrico, no? Che è Segway di fatto, no? Cioè, ma vent'anni fa uscire con un prodotto elettrico che costa come uno scooter perché costava 8.000-9.000 dollari, che si guida in piedi, tra l'altro, dove nel mondo dal cavallo in poi la mobilità per l'uomo è seduta. Cioè il cammino è in piedi, ma la mobilità è seduta, da che mondo è il mondo, no? E uno dei fallimenti principali ha sbagliato era, poi ha sbagliato l'entrata sul mercato perché un mezzo con 20 chilometri d'autonomia dove solo la Quinta Avenue, credo in America, è 20 chilometri, quindi riesci a farla ma non torni, era un mezzo ideale per l'Europa perché con 20 chilometri d'autonomia io attraverso Milano, cioè attraverso Parco Sempione torno indietro, sono 5 chilometri probabilmente andare e ritornare, ma una New York con 20 chilometri dove vado? Quindi ha sbagliato anche il posto, no? Dove lanciarlo. E poi non era pronta tutta quella parte dedicata alla normativa. Che cos'è Segway? Ancora oggi si sta discutendo, per esempio in Gran Bretagna il Segway è vietato e non si può andare su strada perché poi non si sa se era una moto, una bici e via discorrendo. Quindi ha preso tutto il peggio, diciamo, dell'innovazione tecnologica. Oggi ad esempio la notizia di oggi è che a Parigi hanno vietato i monopattini a noleggio, ad esempio, no? Quindi per dire che sono tutte normative comunque in divenire. In divenire, in divenire, anche perché ne ha preso di mano. La storia dei monopattini, se tu guardi le grandi città nel mondo, lo sharing soprattutto, no? Cioè il fatto di affittarlo, però poi magari la batteria finisce, la gente lo lancia in mezzo alla strada, finiscono nella senna, finiscono da tutte le parti e questo diventa intollerabile e quindi devono vietare. Però c'è un grido che si sente da parte, diciamo, della mobilità che c'è bisogno di qualcosa di nuovo che vada a sostituire quello che voglia allevare. E non è sicuramente una macchina da due tonnellate e mezzo, di cui 700 chili di batterie, per poi andare nelle città a 30 all'ora, perché ricordiamoci si sta parlando di città a 30 all'ora. E rimanendo in questo tema, è una domanda che ti volevo fare più avanti, ma ci rilasciamo adesso. Jenny, avete avuto richieste anche da persone senza disabilità per poterlo usare magari anche su piste ciclabili e in altri contesti? C'è un mercato anche da questo punto di vista qui? Tu ci vedi in un futuro immediato? E' qui che io gioco la carta della disabilità, così io mi nascondo dietro sempre. Comunque se dico delle stupidaggini posso sempre dire che sono un disabile. Allora, se uno non vede il prodotto, a prima vista direbbe è impossibile. È impossibile che uno sano di mente si possa comprare una sede a rotelle. E questo è il primo impatto che si ha. Io ho visto, sto seguendo da parecchio i tuoi video, ho visto io presentazioni dei prodotti e mi viene spontanea la domanda, no? Allora, per dimostrare questo, che cosa ho fatto? Allora, io l'ho sempre saputo che se tu... Allora, per me il successo di un prodotto deve seguire tre regole basi. Uno deve essere tecnologico, oggi, io dico per me è il mio modo di vedere le cose. Deve essere tecnologico, di design e di facile utilizzo. Se manca uno di queste tre componenti, il mezzo non può diventare un mezzo, diciamo, di successo. Ora, tecnologicamente noi siamo non all'avanguardia. Non esiste mezzo, e poi vi dirò anche il motivo per quello. Noi siamo molto più vicini a un elicottero che a una macchina, come funzionamento. Perché noi, quando galleggiamo, si può dire che siamo in autobalance, siamo molto più vicini a un elicottero che a una macchina. Quindi, tecnologia ne abbiamo da vendere. Non c'è macchina, non c'è automobile che giri, per complessa che sia, che abbia una complessità come abbiamo noi a bordo. Su questo ve lo posso garantire. Il design, e questo è un tema fondamentale, no? Cioè, deve essere bello che escono. Allora, tutte queste due componenti, per esempio, le ha un elicottero. Ma quando andiamo a vedere la facilità di utilizzo, se ci vogliono cinque anni per prendere il patentino per usarlo, dubito che un elicottero, seppur bello, seppur di design, diventerà mai di facile utilizzo. Jenny ha anche questa ultima, ultima, diciamo, peculiarità. Perché? Perché prende lo schema motorio che usa il corpo umano per muoversi. Ecco, l'altra, veramente contrario a qualsiasi mezzo che abbia inventato l'uomo fino a oggi, no? In cui tu sai che quando qualsiasi mezzo a motore va a frenare, che cosa fa il corpo umano quando freni? Va avanti, giusto? Perché la forza ti porta in avanti. E quando acceleri, che cosa fa? Ti porta indietro. Questo, che tu sia a cavallo o che tu sia in moto, questo è il sistema di funzionamento. Jenny è esattamente l'opposto. Cioè, che cosa fa il corpo umano invece quando deve accelerare? Va avanti, giusto? E quando frena, va indietro. Questo è il corpo umano, perché quando frena, porta indietro, porta le gambe per rallentare. Quando si porta avanti, sbilancia il corpo, così le gambe devono correre velocemente per compensare, per evitare che cadi, giusto? Questo schema motorio è stato ripreso elettronicamente all'interno di Jenny. Quindi quando io mi sposto in avanti, Jenny va avanti. Quando io mi sposto indietro, Jenny frena. Se questo schema motorio è quello del corpo umano, è evidente che quando ci sali sopra, chiunque ci salga sopra, che sia un disabile o che sia una persona, tra virgolette, normale, dopo cinque secondi il corpo umano dice, ah vabbè, ma è semplicissimo, è quello che uso io per muovere. Non devo imparare a frenare una leva, schiaccia questo, schiaccia la frizione, schiaccia il freno. Ah, devo solo capire che quando vado in avanti, vado avanti e quando vado indietro, vado indietro. Quindi viene preso automaticamente dal sistema muscolare e viene reso immediatamente disponibile. Quindi è facilissimo nell'utilizzo. Se il design, come dici tu, è gradevole ed è tecnologico, io penso che questo possa anche traslare verso una necessità che oggi è comune alla disabilità e alla normalità. Noi siamo, noi ci dovete vedere un po', noi come categoria persone disabili, come gli esperti, tra virgolette, per esempio, dello star seduti. No? Cioè, se io dovessi dire a una persona normale, ma dai un consiglio, ebbè, chi più di noi che stiamo seduti praticamente 12 ore al giorno possiamo dare un consiglio sulla postura, l'ergonomia, sul cuscino, su tutto quello che è l'ergonomia di una persona seduta. Quindi già possiamo dare tante informazioni. Quindi un mezzo che viene da la disabilità deve avere la sicurezza, perché è chiaro, io sopra c'è una persona che magari ha riflessi non perfetti, che ha delle disabilità e quindi deve essere sicuro. Quindi se un mezzo è sicuro per una persona con disabilità, figuriamoci se non lo è per una persona, tra virgolette, normale. È comoda? Beh, se è comoda per noi, figuriamoci per le persone. Quindi tutte le cose positive del mondo della disabilità traslano verso il mondo della normalità con l'aggiunta, direi, di un fattore comune che è la mobilità. Cioè, oggi ci ritroviamo tutti, disabilità e normalità, nella necessità di muoversi all'interno delle città e forse il mezzo è quello che ci accomuna. Ora faccio un esempio. Pensa, io comprai una macchina negli anni 2000, aveva il cambio automatico. Quando sono andato a venderla mi dicevano guardi, non ha mercato, perché la vendono o alle persone con disabilità o ai tassisti. Ora, fai una trasla di vent'anni. È una vita che c'è il cambio automatico. Trasla di vent'anni questa cosa. Perché la usavano due categorie? Beh, i tassisti erano quelli che dicevano, ma io perché... Tutto il giorno. E l'altro perché non poteva usare la frizione. Però vuol dire che traslare delle peculiarità da un mondo all'altro non è negativo, anzi è positivo. Ci vuole solo il tempo, direi che le persone poi si riescono anche ad adattare, perché a volte ci sono delle persone che proprio non si adattano. Naturalmente è un prodotto altamente tecnologico, quindi con un price adeguato. Quindi non può essere comunque una macchina per tutti. È più per una clientela comunque altospendente, almeno la vedo. Anche lì non è vero. Non è vero nel senso. È vero ora. Allora, intanto bisognerebbe mettere che cos'è Jenny oggi, che è un po' più complicato di che cos'era Segway. Cioè, Jenny oggi partiamo da... Intanto che cos'è un mezzo autobilanciante e che cos'è Jenny? Perché ho detto che è più vicino un elicottero che ha una macchina? Perché essendo su due ruote ed essendo l'elettronica che ci tiene in equilibrio, molti mi fermano e mi dicono ma ci vuole molto equilibrio per stare a far ridere? Dico no, guardi che in realtà è l'elettronica che mi tiene in equilibrio. Ma questo cosa significa? Che se c'è un malfunzionamento nell'elettronica io posso cadere. E quindi per ovviare questo problema noi abbiamo dovuto inserire le ridondanze aeronautiche che si usano abitualmente negli elicotteri, negli aerei. Tutto si rompe a questo mondo. Quindi questo cosa vuol dire? Che se io ho una batteria e si rompe una batteria io cado. Quindi devo mettere due batterie. Se io ho un'elettronica e si rompe un'elettronica io cado. Quindi devo mettere due elettroniche che lavorano in simultanea, non che quando si rompe una si accende l'altra, perché io non so se poi l'altra si accende. Devono lavorare simultaneamente in ombra e devono comandare due motori. E qui entriamo nel problema dei problemi. Perché i due motori, cioè il motore che comanda le due ruote, non è un motore normale. Segui l'aveva fatto fare dalla Pacific, mi pare, una delle più grandi aziende al mondo che costruisce motori. Perché non esisteva al mondo? Perché quel motore è un doppio avvolgimento, il motore Brussels ha doppio avvolgimento. Cosa significa? Che in realtà sono due motori accoppiati che prendono il comando da due separate elettroniche. Quindi un mezzo elettronica comanda mezzo motore, l'altra mezza elettronica comanda l'altro mezzo motore. Quindi se si rompe un'elettronica, l'altra elettronica comanda l'altro mezzo motore e quindi tu continui a andare e non succede niente. Ma quel motore lì era da costruire e non esisteva. E non è che io chiamo la Pacific e mi dico sì perché se hai badato lo mando. Anche perché era un progetto di segue. Quindi abbiamo lavorato un anno e mezzo con un'azienda italiana che ha sviluppato con noi questo motore e quindi abbiamo sviluppato il motore nuovo che è più performante. Conta che ha un cavallo e mezzo, una roba grossa così di due chili, è come avere un ciao da una parte e un ciao dall'altra. E poi su quello abbiamo sviluppato l'elettronica. L'elettronica, anche lì, quello voluto fortemente io devo dire, ma non perché ho qualcosa contro l'Asia o via discorrendo. Io ho voluto un controllo totale di quello che è la qualità e la gestione. Perché abbiamo detto se sono più vicino a un elicottero o a una macchina è chiaro che la qualità dei prodotti che entrano all'interno deve stare assolutamente a dei livelli altissimi. E se io non posso controllare e non c'ho vicino quelli che producono, ma ce l'ho a diecimila chilometri di distanza, chi mi fa il motore? Me ne manda cento e quei cento non vanno bene. Io invece devo avere una catena molto vicina. Io ho la fortuna, e poi lì entriamo nel merito, che è una roba che ti volevo parlare poi magari anche dopo, ma perché poi sono qua a rappresentare, diciamo sono la punta di una piramide molto grossa, di conoscenze enormi, abbiamo detto all'interno, non posso essere io quello che ha creato. Quindi il merito, sì, io ho un piccolo merito magari di aver fatto il collagene di tante persone che hanno messo a disposizione il loro sapere, no? Perché non è possibile. Sulle spalle di giganti dai. Ma assolutamente. Io ho la fortuna, e quello non è un merito, no? La fortuna di per esempio stare nel Ticino, Svizzera, ma la Svizzera ha la fortuna di essere incuniata al Ticino. Se voi andate a vedere la cartina è un cuneo che si incastra nell'Italia, no? Ma che Italia si incastra? Si incastra nella Lombardia, che è il più grande comparto automotive, penso europeo barra mondiale, dove ci sono delle aziende che voi non potete neanche capire il know-how che ha a livello mondiale, no? E quindi ho potuto sfruttare le conoscenze di tantissime persone in campi completamente diversi, no? L'elettronica per esempio l'ingegnere Alberto Carrara, gli algoritmi che servono dentro e tutta l'elettronica che è una roba veramente complicata. Vi ho detto prima, 100 milioni di dollari, sì che è un reverse engineer, però comunque rimetterci mano. Con 100 euro non lo fai. Non si fa. Oppure parametric design, che ci ha aiutato nello sviluppo, in tutto lo sviluppo della gene e della meccanica, ma tanti altri che vi possono nominare, che ci hanno aiutato. Il cambio per esempio, noi abbiamo un cambio a cascata di ingranaggi perché dobbiamo portare, noi usciamo a 8 mila giri, più o meno dobbiamo ridurlo a 1,24 e quindi c'è un cambio a cascata, ma il cambio, creare un cambio meccanico da zero ha di nuovo delle expertise, servono enormi. Io l'ho trovato in Lombardia, cioè ho trovato tutta una serie di persone che mi hanno dato la disponibilità del loro sapere funzionale a quello che serviva a me. Quindi qualità incredibile, vicina, quindi controllo e questo mi ha permesso, per esempio tutte le plastiche io ho usato, sono andato dai migliori al mondo che fanno plastiche caricate in fibra, stampo e iniezione, io ho usato tutte le tecnologie automotive, perché? E vado lì quando tu mi dici del costo. Abbiamo speso svariati milioni di euro in stampi perché l'automotive va in stampo e iniezione, per esempio, mentre la vecchia Jenny era stampo a pressofusione, un altro tipo proprio di funzionamento. Stampo a pressione, cosa vuol dire? Viene iniettato ognuno stampo in acciaio della plastica fusa, viene iniettato e stampato e quindi si possono fare grandissime quantità in pochissimo tempo. Cosa costa? Sono gli stampi perché gli stampi costano lire di lì. E viene in mente una quale tra Marchionne e della Valle, della Valle aveva provocato Marchionne e gli ha detto, con quello che voi investite in ricerca di sviluppo alla Toz, noi ci progettiamo un paraurti. Esatto, ebbè è così. Perché gli investimenti lì sono veramente importanti. Per esempio io ho usato anche lì la fortuna, se fossi stato Badano di Atene e non aveva Acerbis a un'ora di macchina da me. Acerbis, per esempio, è un'azienda con 40, 45 anni di esperienza e quella che, non so, un'azienda a caso, la BMW, fa fare tutte le plastiche delle moto ad Acerbis. Cioè la Ducati fa fare le plastiche ad Acerbis, caricata a fibra. Io sono andato da loro per farmi fare la scocca e tutte le scocche, le plastiche, ma perché? Perché io non ho il know-how, l'expertise per sapere. E se quando io una plastica la metto al sole, la vendo a Dubai, sta a 50 gradi e diventa bianca, che faccio? E se la porto poi da Dubai, ne vendo una in Svezia a meno 20, mi si spacca in due, che faccio? Cioè io non posso avere quel tipo di conoscenze lì, ma se io mi associo a chi ha quelle conoscenze lì, è diventato un mezzo, tu dici una Lamborghini, secondo me rende molto l'idea. E anche, ero indeciso se è una Lamborghini o una Tesla, per il fatto della tecnologia. Perché ad esempio c'ha l'autopilot, no? Che ho visto, no? Quindi è un po' un ibrido, no? Forse, no? Sì, le tecnologie, questo è un unicum che se andiamo e torniamo alla domanda che mi hai fatto prima, no? Intanto appunto invito, per chi avesse voglia, di andare a vedersi qualche filmato, giusto per capire di che cosa stiamo parlando. Magari li mettiamo in descrizione, così è più facile da arrivarci. Però, quando tu mi hai detto, ma tu pensi anche che questo mezzo possa sfociare? Beh, a un certo punto, anche noi ci siamo fatti internamente questo. Io una notte non sapevo, dicevo, ma come faccio a dimostrare? Perché non è semplice dire, ma una sede rotella la comprerebbe una persona normale? Cioè, non è che ci sono delle prove di marketing che uno può fare, invece, però ho fatto una cosa. Io sono su tutte le piattaforme, è chiaro, è una nicchia della nicchia, perché io parlo della disabilità, dei problemi della disabilità, e quindi non è, non sono donnine e cagnolini che puoi fare dei numeri incredibili, no? Cioè, la disabilità, sì, ha dei numeri grandi, però è sempre una nicchia. Io non conoscevo la piattaforma TikTok, per esempio, non sapevo neanche che esistesse. A un certo punto ho detto, beh, faccio una cosa. Una notte dico, apro un account TikTok, cinque mesi fa, mi sembra, neanche sei mesi fa. Apro un account TikTok e parlo non di disabilità, non faccio vedere la sedia, faccio vedere Jenny Zero, ma non per disabili. E lì mi sono domandato come faccio, come faccio. E allora è stato semplice, perché dico, benissimo, se io metto, per esempio ho usato il primo video, ho usato il mio ingegnere, il mio ingegnere capo, Giovanni Fulgoni, che lo ringrazio, che gli faccio fare di tutto anche il TikToker. Esatto, il TikToker. Poi adesso, vabbè, è diventato anche un mezzo divo. Perché si capisce? Perché parte da in piedi, si cammina, cammina e poi si siede e va via. E quindi al contrario la gente mi scriveva, ma questo cammina, quindi, ma non è un mezzo per disabili. Beh, ve la taglio. Siamo quasi a 27 milioni di visualizzazioni in 5 mesi. Un video ha fatto 15 milioni di visualizzazioni, l'altro 3 milioni di visualizzazioni. Ne ho più io che la Ferragni. Cioè una roba fuori dal mondo. E le persone che scrivono I Want One da tutto il mondo è incredibile. Dove, sì, ci sono molti che dicono la disabilità, ma molti dicono, ma chi se ne frega, lo voglio, serve, cioè bypassano il problema della disabilità ogni un attimo, perché intanto sono attirati in prima stanza dal design, che è quello che ti leva le cose. Poi dalla necessità, perché dicono, ma cacchio, ma è comodo, è seduto, posso usarlo nelle città, posso usarlo di qui. Se voi pensate a questo, cioè, voi pensate anche il monopattino, che poi è la cosa più scomoda al mondo, no? Cioè, poi bisogna anche lì in fascia di età, perché, voglio dire, un sessantenne su un monopattino, forse un trentenne ancora ancora, ma vediamo. Comunque c'è le ruote piccole, è anche molto pericoloso. Poi c'è il problema che dicevamo prima, cioè, l'essere umano è conosciuto per andare seduto, cioè, è più comodo seduto. Uno dei fallimenti di segue, torniamo, Steve Job mi raccontò, Dean Kamen, quando andavo a cena una sera, che Steve Job gli disse è una merda, alla presentazione, è una classica, è una merda, perché anche quando sei sull'autobus ti vuoi sedere, cioè, quando sei in piedi appeso ti vuoi sedere, quindi lui lo vide in piedi e disse, questo non andrà mai, perché se non lo fai seduto non andrà mai. In realtà lui si voleva fare qualcosa di strano, farlo in piedi, comunque mi sa che aveva ragione Steve Job. Detto quello, il fatto che avere un mezzo seduto, sicuro, no? Che ti puoi aprire l'ombrello, per esempio, quando piove, puoi attaccare la spesa, perché anche quello, cioè, in bicicletta non è proprio così immediato. Poi, quelli che, una delle, la domanda classica che mi fanno è che velocità fa? In realtà è la domanda più sbagliata in assoluto, perché io invece faccio la domanda opposta. Qual è la velocità minore che puoi andare con un mezzo, un qualsiasi mezzo? Perché se tu vai sul monopattino c'è una velocità bassa che a un certo punto perdi l'equilibrio e cadi. La bicicletta non puoi andare a zero all'ora, giusto? Ma se io vado con te in una città, sono in una città, all'interno di un, di un area pedonale, io con Geni posso andare a zero uno all'ora, oppure star fermo in equilibrio. Io posso andare esattamente alla... È vero, è l'unico mezzo. Un mezzo al mondo che può andare da zero fino a 22, 25, 30. Quello non è un problema portarlo in velocità. Il problema è pensare a un mezzo che vada da zero e quindi io posso in un momento stare attaccato a te perché stiamo parlando e poi dire, guarda, ho fretta e vado via. Quindi ancora di più è un mezzo che nelle città può essere utilizzato in questo senso qui. L'altro, che non è banale l'autopilot, noi ci stiamo lavorando, ma perché? Perché uno dei fallimenti del monopattino è il fatto che non torna al lab da solo e non può andare verso da solo perché non sta in equilibrio da solo. Ma noi a ruote parallele stiamo in equilibrio anche se non c'è la persona sopra. E quindi io un domani posso dire, mi ordino una Geni, ti arriva a casa, quando hai finito la lasci dove vuoi in città e lei torna al lab da sola. E quindi non ha quell'impatto che dicevi nelle città di lasciarlo. No, perché questo potrebbe essere tecnologie che non faccio io ormai. Cioè l'autopilot sono aziende a livello globale che stanno arrivando ed è il futuro. Cioè il trend andiamo lì. Il problema è che non può essere applicato a una bicicletta, non può essere applicato a una moto, non può essere applicato nulla che non abbia due ruote parallele come noi. E noi siamo gli unici. Per eccesso Geni ti potrebbe portare un pacco di Amazon a casa. Anche? Perché no. Per eccesso, no? Certo. In realtà quello che mi sembra di capire è che voi state creando una categoria a sé. Assolutamente. Cioè non è le caro, cioè rientra difficilmente ormai nella categoria. Allora io la definirei. Allora nella nostra base, devi sapere, nella fusione di base, che è una fusione di alluminio, perché tra le altre cose abbiamo anche fusione in alluminio, dove il telaio è fuso in alluminio. Abbiamo scritto Geni Power Unit, cioè è una Geni Power. È una Power sopra, dove tra l'altro c'è un nostro brevetto che si sfila, questo per l'assistenza fondamentale, no? Cioè cercare di separare l'ergonomia, cioè quella che l'ha seduta, da quello che è il motore, blocco motore, no? Perché? Perché l'esperienza di dieci anni in vendere in mezzo mondo mi ha fatto capire che, cacchio, l'assistenza è essere facile, levare il motore facilmente, cambiarlo e far dare via all'utente più velocemente possibile, è un po' come dirti, per semplificare, io faccio sempre l'esempio della macchina tua, no? Te sei così affezionato al tuo motore o se tu hai un problema vieni in officina, io in cinque minuti ti sfilo il motore, te ne metto un altro e vai via. A te che ti frega. E ancora di più un domani, perché magari nel tuo motore endotermico sei più affezionato, devi scrivere, ma di un motore elettrico ti interessa qualcosa? No. Cosa ti interessa è quello che hai nel portacene, quello che hai dentro la macchina, no? Anzi, magari gli fai quel piccolo upgrade e gli hai messo quell'aggiornamento. Ho capito, ma se tu hai una rottura. Sì, sì, in più dico. In più, cioè, io devo essere veloce a levare la parte motore da quella che è la parte design. Dietro quello, e abbiamo fatto un brevetto dietro quello, dietro quello l'idea qual è stata? Di dire, beh, ma se io ho una power unit, quella power unit lì, ci posso mettere diverse power, cioè diversi station sopra, che sia quella cargo, come dici te, per portare la roba, un delivery da solo, che se la viaggia per la città, oppure la sfilo, ci metto la seduta, quella magari per persone con disabilità che ha diversi tipi di accessibili, cioè, non so, il cuscino fatto in un certo modo e via scorrendo, quella più smart magari per le persone anziane che non hanno bisogno e quindi abbassare i costi anche lì, no? Cioè, varie fasce, ma con una base, cioè, ottimizzare la power unit per abbassare i costi, quindi per aumentare la facilità di utilizzo, fino ad arrivare a una magari che invece ci sali semplicemente come a cavallo, per esempio, no? Invece di sederti davanti, avere come una moto che ci sali e vai via, che costa ancora meno, però seguono sempre con lo stesso la power unit e quindi qui, per tornare ai costi, già per la metodologia che abbiamo scelto, quindi stampe e iniezione, è una questione semplicemente di scalabilità sui numeri, cioè, quando entreremo, è evidente. Il momento in cui inizia a fare masse. È evidente che fino a 5.000, 10.000 macchine, già fino a 10.000, noi ora siamo prontati verso 1.000 macchine e, perché se no, vi do un esempio, perché io quando sono entrato in questo mondo, no? Sono andato, per esempio, quando cominciavano a stampare le nostre sedute e, diciamo, guarda, stiamo per stampare le vostre sedute, venite, no? Eravano tutti emozionati, le prime stampate. Vengono a Cervis, ci chiamo. Io vado e cominciano a stampare, vedo che lanciano nel cestino la roba, dico, no, ma aspetta, ma devo lanciare. E continuavano a lanciare, no? Alla fine ne hanno buttate via, ma non so, 100. Facciamo 100. E io diceva, porca Eva, ma... Stiamo tarando la macchina, no? Per poi partire. Per poi partire. Cioè, per scaldare la macchina, no? Ne buttavano via 100 per scaldare la macchina. E poi il tempo di stampaggio era un minuto. Cioè, in un minuto ne facevano una. Poi dici, quanto te ne serve? Mille. Ah, vabbè, lavoriamo sì, forse un giorno, neanche. Giusto per capire. Quindi, la scalabilità è solo data da quanti numeri facciamo per arrivare a un prezzo che può essere un prezzo di un motorino, di una roba. Oggi noi abbiamo un prezzo alto, cioè alto, alto non per la disabilità, alto per un mezzo... Sì, sì, alto per un... Per un mezzo, tra virgolette, come intendevi tu, ma è solo una questione. Da 10.000 in poi a 20.000 pezzi crolla. Ma lo vediamo nel telefonino. Il primo telefonino costava 20.000 dollari. Cioè, voglio dire, oggi ce l'abbiamo con 200 dollari. Quindi, è solo una questione di scalabilità sui numeri. Indubbiamente stai affrontando delle complessità enormi, sotto da tutti i punti di vista, ma le potenzialità sono altrettanto enormi, comunque, perché veramente hai un mercato che si può sviluppare in tanti momenti. Tu conta che si vendono, più o meno, giusto per darti un'idea, del mercato, 30 milioni di sedi a rotelle all'anno nel mondo. 30 milioni. 30 milioni di sedi a rotelle. Siamo l'uno e mezzo per cento della popolazione terrestre seduto su una sede a rotelle. Solo quello, no? E questo ce lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Solo quello ci sarebbe da dire, vabbè, io mi tengo quel mercato lì. Se poi vuoi sfociare un attimo nella silver economy, quella che magari pensiamo che sia, già lì di nuovo l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che gli over 70 sono di nuovo 700-800 milioni di persone. E circa l'11% lo passa con una disabilità che è invalidante nella deambulazione. E quindi anche lì problemi con la deambulazione. Se poi vai nella micromobilità, e allora i numeri di che cosa stiamo parlando? Secondo me, la cosa più interessante è che è un mezzo, forse il primo mezzo, devo dire, al mondo, trasversale, che unisce dei mondi che nessuno aveva mai unito. Perché fino a ieri dire, ma tu la compreresti mai una sede a rotelle? Cioè, ma chi la comprerebbe mai una sede a rotelle? In realtà, forse siamo arrivati a un momento che si è fatto di tutto per cercare di omologare noi, cioè di far rientrare noi nella società. A me mi fa abbastanza ridere, mi cambiano il nome ogni due o tre anni. Io passo da handicappato a diversamente abili. E devo dirti che preparando l'intervista... Non sai mai come chiamarla. Era un attimo preoccupato. Normabile. Adesso siamo normabili, perché abbiamo unito la parola normo abili, perché l'altro era diversamente abili. Ci sono dei malati di mente che a te non hai neanche un'idea che... Veramente... Però forse invece è la prima volta che lo farà automaticamente invece un mezzo. Perché ti dico questo? Perché l'altro giorno ero a Milano. Ero in Parco Sempione, mi fermano due ragazzi e mi dicono Ah, figo questo, me lo fai provare? Avevano tipo 13 anni, 14 anni. E dico... Beh, no, guarda... Provare mi mette male. Non posso alzarmi, sai sono disabili. Ah, ma l'hai affittati qua in giro? Cioè lui non gli era neanche... Non gli interessava neanche niente di quello che avevo io. Lui era... Voleva provarlo, no? Era tirato dal fatto, dalla tecnologia, dal design, no? E anche quando gli ho detto, ma guarda io non posso camminare, no? Questo, se vai a vedere, è il più bel gesto di integrazione. Perché se io sono con la mia sedia rotale normale, nessuno mi ha mai fermato per dire, oh figa, me la fai provare. Anzi, la gente si guarda all'altra parte, dice questo, cosa gli dico a questo? Ma se ti racconto, persino, non so, gli anziani smettono di guardare i lavori pubblici. Se passo io, si fermano e cominciano a guardare e mi dicono, ma non ce l'ha un'altra ruota sotto? Ma come fa a stare in equilibrio? Allora glielo racconto. Lei ha presente, per farmi capire, gli dico, sa una nave quando deve sparare, una nave militare che è in mare e deve sparare, ma se ha forza sette in mare, come fa a sparare se il cannone segue l'onda? Dentro c'è un giroscopio e quindi la nave fa così, ma il cannone rimane fermo e riesce a sparare, per fargli capire come funzionano i giroscopi. Ah, è tutto lì dentro? Sì, ma è elettronico, mentre loro ce l'hanno manuale. Ah, ma è figo. Anche lì la tecnologia ha spostato il focus, mentre io, quando sono sulla mia sedia rotale, la prima domanda è sempre che cosa ti sei fatto. È sempre così. E quindi parti da, o non c'è comunicazione, perché uno non riesce a sfondare quel muro che c'è tra disabilità e normalità, ma anche, a volte, non sai cosa dire, quindi uno preferisce girarti dall'altra parte, mentre qui è già fatto. E poi se io dico, ma no, ma tu sei in sedia rotale, ma lì ci sei perché, sì, ho fatto un incidente, ma sono molto più presi dall'altro, e abbiamo già fatto quel passo, quel passo che, francamente, quando tu mi dicevi come si... come si fa a passare quello che hai passato te, cioè qual è il processo? Beh, io posso dire che tutte le disgrazie hanno un processo sinusoidale, cioè vai giù. Dopo, io sono passato, io avevo 27 anni, cioè da un momento all'altro, ho sempre vissuto, direi di fisico, sai quei ragazzi che vivevano di fisico, 27 anni e a un certo punto la sentenza, io la chiamo fine pena mai, perché una rottura di una vertebra con conseguenza di compromissione del midollo spinale è fine pena mai, non c'è una cura, quindi qui non si cammina più. Io mi sono trovato un giorno fuori dall'ospedale, da tutto quello che ho fatto, ero in Savona, in centro, scivolo con la sedia, cado in terra con la sedia a rotelle, cosa che capita, mi capita anche ora, in più non so più guidare le sedie a rotelle, ma ai tempi, mi ricordo, arriva una vecchietta, avrà avuto 80 anni, che mi voleva dare una mano, e lì ho pensato, mi sparo, la faccio finita, perché da 27 anni il cervello deve rimettersi a posto, cioè da uno che tre mesi prima viveva di fisico, tre mesi dopo una vecchietta di 80 anni e ti vuole dare una mano a risalire sulla sedia a rotelle, è evidente che ci deve essere un distacco, e lì è quella cosa che ti dicevo di scendere nell'abisso per poi ritrovare te stesso e le forze per salire, è brutto dirlo, ma qualcuno non risale, io non so se le difficoltà, io sono di quella parere che le difficoltà non rendono forti, le difficoltà rivelano chi è forte. Chi sei veramente che... Sì, sì. Però questo, devo dire, che questo tuo progetto ha dato molto significato, un po' al... Tu avresti fatto lo stesso l'imprenditore a questo livello, secondo te, se... Ma io nasco come imprenditore perché non lo so, quel morbo lì dove lo prendi, non so che malattia, è una malattia, questo è chiaro, su questo... Come tante malattie, non credo che uno si può improvvisare imprenditore, perché fa... Poi c'è un livello, io cerco di capire quali sono i miei livelli, sono sempre a manetta di quelli, sono il livello di ostinazione, l'ostinazione nell'avere un'idea, io fin dall'inizio di Jenny ho avuto un'idea, poi le strambate che prendo è perché siamo sempre lì, se mio padre fosse stato magari Agnelli e non facevo neanche una strambata, andavo con Ibollina e arrivavo, invece lì giro perché poi devo dare retta a uno, poi giro per dare retta a un altro e quindi è lì, secondo me, la forza è quanto tu credi in quel progetto lì, perché io non so perché, ma ci sono delle forze che tutti sono pronti a dire non ce la farai, non c'è uno che dice vabbè ti do una mano, non sono sicuro. E non so te, ma io quando sento quella voce lì mi rafforzo, inizio a pensare che è la cosa giusta da fare. Sì anch'io, perché io ho trovato tantissime persone che più che dire ma stai zitto, cioè non mi vuoi dare una mano, stai zitto però, invece no, cercano in tutti i modi di dirti che non ce la farai e quello mi rafforza, devo dire che dico vabbè però prova ad andare avanti. E quindi in quel passaggio lì ti dico ora è stato difficile, è stato difficilissimo ma ho avuto anche, io ho venduto quasi duemila delle vecchie genne in giro per il mondo e ho delle, chi mi dava forza nei momenti anche più bui del fallimento, di quando, sai, il fallimento di nuovo è una roba che scriverò un libro sul fallimento perché da un lato è un'energia esplosiva enorme dall'altra è un una una caduta che non vede il fondo non so come dire è una roba che quando ne sei uscito dico tutti dovrebbero provarlo in realtà spero che nessuno capi anche il fatto che che viene straniato dall'azienda che tu quello penso sia una delle cose più brutte è una roba quando tu perdi l'identità come Steve Jobs quando tu perdi l'identità che non sei più anche perché è una tua idea l'hai vissuto sulla tua pelle l'hai portata avanti ogni bullone ogni cosa che hai vissuto e a un certo punto c'è qualcuno che strappa lo vedi proprio come una lacerazione interna ma dall'altra se presa di nuovo con le giuste è una un'energia di nuovo che ti fa poi riandare in alto è una delle energie che mi ha aiutato perché fallire perché non so non vendi il prodotto fa schifo perché non c'è il mercato è un conto ma le aziende falliscono anche perché comunque ci sono diverse vedute che poi sono tutte giuste le vedute all'interno di un consiglio di amministrazione bisogna sempre pensare che non è che c'è quello illuminato sono diverse strade che si devono devono andare andare come una rotaia cioè non puoi andare da una parte all'altra perché magari ognuno c'è i suoi obiettivi hanno obiettivi però a monte sono diversi gli obiettivi ma che non sono sbagliati di base sono i loro il problema devo dire è trovare qualcuno che collima più o meno te con gli obiettivi che questo era il mio errore ecco questo è il mio errore ma chi mi ha dato la forza erano appunto i messaggi di chi la usava di come gli ha cambiato la vita in tutto il mondo di gente che mi arrivava in qualsiasi lingua che mi diceva guarda Paolo grazie a te ho portato mia figlia all'altare grazie a te ho fatto questo grazie a te ho fatto quello che dice vabbè però si sarà tutto quello che vuoi ma qualcosa c'è da andare ancora a vedere era proprio questa domanda che ti volevo fare perché ormai nel mondo tutte le aziende cercano di darsi una veste etica persino chi fa junk food fa finta di essere salutista quindi tu ce l'hai proprio intrinseco nel tuo DNA questo discorso di etica e quindi quanto esatto branding tutte queste parole inglesi mi fanno abbastanza schifo ma l'amore per quello che fai deriva da tanti fattori allora in azienda noi come un'azienda di aerei abbiamo una regola la prima regola che è la sicurezza noi tutto quello che facciamo la prima regola che non può essere violata e non può essere violata in nome di un consiglio amministrazione che ci guadagna o non ci guadagna perché tu non lo metti un aereo un aereo in cielo se non hai un pezzo che dici ma su questo però vabbè poi ne mandiamo quattro in cielo e poi gli altri lo facciamo non funziona così capisci tutto quello che è mondo aereo spaziale aereo del mondo deve essere fatto con una coscienza della sicurezza prima di tutto siccome io sopra ci metto delle persone con disabilità e ci vado io principalmente devo sempre avere come riferimento la sicurezza e già questo è una asticella che porta tutto in altissimo perché ogni pezzo che noi mettiamo dentro deve sottostare dei livelli di di collaudi di cose facciamo di tutte le procedure in azienda che facciamo per metterla solo ma non è solo quello sono tutte le procedure che vengono dietro cioè anche dal punto di vista chi la può usare cioè se tu pensi il primo problema che mi sono posto era ok io ho fatto mettiamo un antibiotico che funziona molto bene no ho ideato un antibiotico che funziona molto bene e adesso lo voglio mettere sul mercato ma la prima cosa che mi chiederanno è sì ma chi è che fa male perché è vero che fa bene ma se tu non dici prima chi fa male come facciamo a distribuirlo e quindi molti anni fa io grazie all'ingegner Sacchetti che ringrazio ancora adesso dell'Inea e il Divigorso di Budrio lanciamo con l'Inea in nazionale fece un un medica guideline andò a identificare insieme a noi fosse il primo al mondo che disse perché questo l'antecedente cos'è voi dovete considerare che le sede rotelle sono a 3 a 4 a 6 a 12 ruote a cingoli ma nessuna al mondo aveva fatto prima una sede rotelle a 2 ruote quindi che cosa significa che non c'è una normativa e quindi non ci sono delle norme su cui poi potersi adattare o metterlo abbiamo dovuto scrivere la norma io ho passato 6 anni della mia vita per cercare di capire che cosa è genere dove inserirla nel mondo medicale e grazie all'INE siamo arrivati a un medica guideline che andasse a identificare chi la poteva usare chi non la poteva usare e questo non è banale in un mondo che tu immetti un mezzo nuovo e quindi devi portare come segue i tempi e ho dovuto seguire quella normativa lì quindi da un lato chi mi precederà avrà un solco bello fatto ma effettivamente io ho aperto un solco se tu vai a vedere adesso sono spariti tutti perché segue segue quando tu mi hai detto a un certo punto è stata acquisita dai cinesi di Ninebot io andai a Pechino nel 2016 da loro conobi Mr. Gao che è oggi l'amministratore delegato gli spiegai il progetto Jenny lui disse guarda bellissimo ma a noi non ci interessa un'ammazza di niente perché noi segue lo vogliamo far diventare un giocato abbiamo preso il nome ci interessa il nome perché effettivamente è un nome conosciuto a livello globale noi vogliamo quotarci in borsa nel 2017 per circa un miliardo di dollari ora valgono due miliardi di dollari più o meno ma loro avevano un'idea secondo me da un loro punto di vista geniale loro sono quelli che hanno fatto l'overboard 300 dollari ne hanno venduto Walmart ne hanno venduto in tutto il mondo ma con quello non ci fai quello che sto facendo io cioè lì una batteria si rompe e cadi si incendiano cioè ne hanno fatto un giocattolo di Segway loro ne hanno preso ne hanno fatto un giocattolo e hanno fatto due miliardi e rotti di fatturato ma niente di quella tecnologia lì può essere usata in campo dove la uso io quindi avendo avendo comprato Segway avendo portato tutto in Cina avendo fatto poi chiudere Segway a chiuso nel 2020 mi pare non esiste più noi siamo diventati gli unici al mondo oggi a produrre una base autobilanciante di questo livello come era anzi meglio del livello che era Segway 180 brevetti dimentichiamoci perché dopo 20 anni i brevetti sono 20 anni quindi non c'è più ormai i brevetti sono andati ma se tu vai a vedere nello storico io avevo più di 50 aziende in mezzo mondo che copiavano la Jenny cioè che prendevano un Segway e ci mettevano sopra una seduta e facevano più o meno ma da tutto il mondo io l'ho tenuta in inglese e quando mi dicevano ma le dispiace che la copiano io dicevo guarda dico la verità se nessuno ti copia fatti una domanda perché vuol dire che non c'è il mercato se ti copiano in 50 vuol dire che il mercato c'è e poi se ti copiano vuol dire che stanno copiando quello che hai difatti non copiano la zero hanno copiato quello vecchio ora per copiare la zero devi alzare l'asticella e venirmi dietro e quindi se copi copi sempre il modello prima modello prima sì assolutamente invece per quanto riguarda la commercializzazione come avviene nel vostro settore cioè se voglio comprare una Jenny come posso fare allora intanto la Jenny attualmente non è ancora in vendita sarà il prossimo anno uscirà la nuova versione si spera appunto i primi del prossimo anno qui è interessante questa domanda perché stiamo esplorando anche qua siccome io ho sempre il canale distributivo classico del dispositivo medicali è un canale molto classico cioè sono le ortopedie che vendono che vendono dispositivi medicali che non c'entrano proprio nulla con il mezzo in realtà in realtà c'entrano ma non c'entrano per il mezzo che è per questa dualità che ha e che si porta con sé quindi sto cercando di esplorare devo dire anche qua di secondo me serve un'operazione un'operazione innovativa un qualcosa che non si era mai visto e posso anticipare che sto collaborando con una grossa azienda automotive per cercare di fare qualcosa di di nuovo nel mondo in questo mondo sarebbe interessante molto interessante sarebbe interessante e i paesi vendi tutto il mondo ma allora iniziamo in Europa per attaccare l'America pensiamo perché per entrare in America bisogna fare l'FDA che è una una certificazione un milione e mezzo di dollari più o meno noi ci siamo portati avanti perché stiamo facendo delle certificazioni con delle aziende vicino all'FDA in modo da mettere in in la Geni già in condizione di passare questo tipo di certificazioni però appunto vogliamo anche fare i passi non troppo grandi perché è chiaro che aprire il mercato significa anche qua o poi se qualcuno ci ascolta e dice sono interessato per l'America per gli Stati Uniti esatto noi abbiamo intenzione perché il primo mercato al mondo è chiaramente lo statunitense è il mercato di riferimento però entrare più vicino a noi dove conosciamo dove dove entriamo secondo me in questo momento è la strategia migliore anche se abbiamo da richieste da tutto il mondo da tutto il mondo tutto il mondo però eventualmente c'è esaudita anche richieste singole che arrivano da parti del mondo no principalmente no non vogliamo la qualità cioè non esiste un e-commerce no la qualità per noi allora quello che non sono riuscito a fare col vecchio modello perché 50% lo gestivo io ma il 50% è americano ancora adesso segue e non c'è più io adesso sono in questo paradosso per esempio ho venduto molte macchine quasi 2000 macchine in cui metà è mia ma metà la tecnologia americana gli americani l'hanno venduta ai cinesi tutta l'elettronica per entrare nell'elettronica io ho bisogno di entrare in un software che pago annualmente e che mi acceda per vedere che cos'è ripararle ora me l'hanno bloccato io non riesco a entrare nell'elettronica le persone si arrabbiano giustamente perché dicono ma come non puoi riparare io non posso gestire l'elettronica di Segway e quindi c'è un disservizio enorme che non è causa mia ma è causa ed è il motivo per cui ho voluto da zero gestire tutto perché un domani voglio gestirlo tutto ma proprio perché il servizio a 360 gradi che dai a un cliente è il biglietto da visita cioè c'è pochi bla 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 in questo momento tu se compri un mezzo oggi vuoi alzare il telefono intanto rispondere a qualcuno di fisico che ti dica che cos'ha dov'è dove la devo portare che secondo me è la cosa migliore perché io quando mi si rompe un televisore che comincio a sentire che non so dove andare impazzisco per far questo appunto devi cominciare dalle parti più vicine a te per poi allargarti e creare il customer service non so in Giappone in modo da avere il punto di riferimento vicino dove portarle ripararle dare delle risposte comunque il fatto che hai preso il controllo di tutto penso sia la chiave vincente la chiave vincente è quella non è mania o posso ho mania del controllo ma il fatto che tenere ogni singolo componente sotto controllo mi pone la fatto di non mettermi in mani di terzi perché poi la faccia ce la metto io in questo caso se si rompe una Jenny è vero che lui si arrabbia con me ma io metà la posso rispondere ma se l'altra metà io per esempio le batterie sei mesi non mi hanno spedito batterie alle Segway Segway ha un canvas dentro le batterie che non mi fa leggere niente che non siano quelle batterie lì io non posso metterci nulla che non siano le batterie di Segway io come faccio a risolverti il problema e io quello non lo voglio più assolutamente voglio essere libero di avere il pieno controllo di tutto anche il giudizio del cliente che poi se il controllo non gli va bene però almeno lo prendo io ho visto in diversi video che tendi a sovrabbondare a livello di elettronica di schede di elettronica anche per essere pronto probabilmente per sviluppi futuri no? sì lì dentro c'è un concentrato di elettronica i miei ingegneri elettronici in questo momento dicono basta Paolo mi hanno vietato di aumentare l'elettronica perché dentro abbiamo messo per esempio sono tutte collegate hanno un GPS sono collegate sono tutte collegate in rete perché voglio che se ci sia una rottura lo sappiamo prima noi dell'utente vogliamo scaricare gli aggiornamenti gli aggiornamenti perché sicuramente troviamo miglioriamo hai detto tu vai a dormire come degli aggiornamenti firmware del software anche a distanza che gli puoi fare non so se avete previsto ho fatto un contratto worldwide con un'azienda che vende pacchetti dati alle compagnie telefoniche ci sono aziende sopra le compagnie telefoniche che vendono quindi io non vado in roaming ma vado diretto e quindi ovunque la vendo la Jenny comunica direttamente senza andare in roaming e io posso scaricare gli aggiornamenti dentro la macchina senza praticamente che magari neanche l'utente se ne rende conto però al mattino magari la macchina va meglio di quando l'ha lasciata la sera ma questo è in andata e in ritorno secondo me è il futuro la comunicazione il contatto l'altra cosa interessante che stiamo sviluppando sono tutte quelle tecnologie che vanno a parametrizzare i sensori del corpo che possono comunicare con la base non so io penso un domani una persona che abbia uno scompenso cardiaco la macchina lo riceve sa magari si ferma e chiama gli aiuti o fino a portare direttamente la persona a pronto soccorso molto interessante o come l'Apple Watch che ti segnala con un hardware che può fare qualcosa che ti porta o ti porto o chiama qualcuno cioè è un Beghelli 2.0 sì sì no è interessantissimo e avete richieste anche per versioni customizzate ma sì no quello vabbè quello era una fonte di lit nella prima azienda quando feci questi cerchi qua in Lega in fusione di Lega ricordo una lite in cui diciamo ma scusa ma chi comprerà un cerchio in Lega per una sede a rotelle cioè stiamo spendendo i soldi la fusione effettivamente era un costo alto io dicevo sì però guarda che gli dà quel gli dà quel cosa perché noi siamo noi siamo abbiamo l'estetica di una macchina ma siamo due ruote su due ruote come una moto siamo la fusione di una macchina e una moto guarda che alla fine beh oggi siamo all'estremo perché dietro ho messo un Hollins un ammortizzatore da moto abbiamo le rifiniture possiamo farla customizzare con Alcantara nei sedili trapuntati a mano fino a a dire la vernice quella della Ferrari Roma esatto o quella della Lamborghini in quattro mani quindi quasi come ordinare un'auto quindi il processo è simile sarà così ci sarà una e poi le customizzazioni le metti accanto dopo certo quindi siete molto vicini comunque siamo in piccolo però abbiamo tutti i comparti di un'automobile ho visto anche la fanaleria adesso con tutte le animazioni l'ed mi state divertendo molto è un lavoro io odio quelli dell'Audi perché tutto viene dall'Audi che ha cominciato questo lavoro di giochi di cose con i fari che poi alla fine i fari dovrebbero servire tecnicamente per vedere in realtà fan di tutto ormai che è quello e la tecnologia che c'è dietro un faro uno non se ne rende neanche conto tra i led e l'elettronica io non sono a quei livelli lì chiaramente perché pensate però dietro solo quel piccolo faro Jenny veramente c'è uno studio infatti ho visto studio stampi quindi sono rimasto stupito da anche il software per le animazioni tutto è veramente incredibile ho visto che tra le tante cose hai fondato anche un ente un no profit del Jenny Angels ci vuoi parlare delle attività che svolgete 2015 2016 era io ho tanti ragazzi che mi chiedono ma cosa posso fare per darti una mano come posso aiutarti e via discorrendo e allora mi è venuto in mente di fare questa associazione no profit sono il presidente di questa associazione no profit un po' per perché comunque portare una voce nuova che parla di cose secondo me nuove cioè quelle di dire sì abbiamo creduto alla medicina è vero no cioè fatto 100 gli investimenti per risolvere il problema delle disabilità motorie 99 sono andati alla medicina per cercare di risolvere il mio problema è evidente quella puntura quella operazione qualcosa che mi rifarà camminare e siamo tutti posti così però in realtà io sono 26 anni che sto aspettando ecco l'associazione di fatto il claim dell'associazione è quella di dire grazie alla tecnologia no magari rimango come sono ma vivo meglio cioè la tecnologia potrebbe arrivare prima anche la tecnologia ci serve per vivere meglio poi la medicina magari ci risolverà il problema ma a noi serve anche comunque vivere meglio ora e ora però non tra 30 anni cioè investiamo fatto 100 dico ok 90 investiteli nella medicina ma un 10% la tecnologia che magari ci aiuta a vivere meglio e Jenny è la testimonianza quindi dico tecnologie per vivere meglio no e anche divulgazione andiamo nelle scuole in tempi mi ero inventato Dino Gradino e Lella Larotella per raccontare ai bambini che cos'è una barriera architettonica no e via discorrendo quindi un'associazione che va un po' a unire delle forze delle energie per cercare di portare questo verbo nuovo che dice cacchio sì ok va bene risolvere il problema ma vorrei risolverlo ora per vivere meglio certo a livello di parlavamo di barriere architettoniche l'Italia non si è mai distinta forse no per da questo punto di vista ma tu che c'hai un'esperienza probabilmente più approfondita che hai girato tanti paesi nel mondo come come la vedi come siamo messi da questo punto di vista ma guardi l'Italia ha questa sindrome strana sempre del del piangersi addosso io ho girato veramente gran parte del mondo l'ho girato e girando il mondo ti devo dire che l'Italia non è messa così male non è messa così male la Francia per esempio è messa molto peggio di noi quindi è anche vero che l'Italia non è tutta omogenea cioè ci sono regioni e regioni però ci sono sindaci che si sono distinti hanno fatto molto è molto legata al sindaco tipico cosa italiana un comune che magari va bene l'altro va male c'è molto da fare per l'amor di Dio bisogna smettersi di piangersi addosso pensare che è una risorsa non è una rottura di palle pensate solo l'Italia l'Italia perde perde veramente io sono distrutto da questo perché il turismo accessibile è una roba da 100 miliardi l'anno solo in Europa cioè noi ne prendiamo l'uno per cento perché se tu vai a vedere metti Savona metti Milano metti dove vuoi cioè non trovi informazioni collegate se sei un tedesco e vuol venire al mare magari a Savona ci sono tutti gli stabilimenti balneari che hanno l'ascensore il coso fatto bene tutto ma l'informazione non c'è se non c'è l'informazione non la trova il turista e non verrà mai qui quindi dobbiamo essere fare più diciamo mettere in rete queste informazioni non so la vela di Savona per esempio ha le barche che una volta diceva ma non conosci dei disabili qui abbiamo la barca per far andare le persone con disabilità ma non abbiamo i disabili ma se non mettiamo domande offerta come facciamo quindi io dico c'è tanto da fare c'è tanto da fare tanto da mettere a posto e tanto ancora da passare anche questa cosa secondo me è fondamentale di non dire che le barriere architettoniche vengano abbattute per la disabilità è una palla gigantesca perché voi chiedete a qualsiasi disabile ci siamo trovati in mezzo alla strada con una mamma con una passeggino a dire da dove passiamo perché noi abbiamo lo stesso problema che ha una mamma col passeggino e sono più le mamme col passeggino delle persone in sede dell'hotel quindi si abbattono le barriere architettoniche perché si viene più vecchi perché le scale le hanno fatti i romani e probabilmente gli egiziani e oggi le nuove città si devono andare in abbattimento barriere architettoniche punto e basta questo è la fine tra l'altro tra l'altro ho visto un video ad esempio con della Jenny che montava le gomme diciamo da sabbia in cui potevi andare tranquillamente anche al mare è vero anche quello abbiamo quindi anche quello fa parte di dare una qualità della vita migliore assolutamente e per quanto riguarda a livello imprenditoriale hai avuto qualche mentor qualche persona che ti ha ispirato da cui hai preso spunto tanti tanti mi piace guardare leggere ma principalmente recentemente ho ripassato un po' anche la storia di Cristoforo Golom che è una storia pazzesca perché di fatto tutti sappiamo la data di quando lui ha scoperto l'America ma che cosa è bello che lui era pronto dieci anni prima a partire però anche lui non aveva i soldi è bellissima la sua storia perché è comune quella storia mi ha tirato su perché dici cacchio comunque lui sapeva già tutto dieci anni prima lui era pronto voleva andare non trovava e che cosa faceva passava di importo in porto come vedeva un marinaio gli chiedeva dove era stato si appuntava per capire cioè lui alzava il livello delle conoscenze per convincere gli investitori guarda il caso quello che ho sempre fatto io quindi aumentava le sue conoscenze ma la sua idea lui sarebbe già partito non aveva bisogno di quello era per poi trovare qualcuno per convincerlo a dargli poi quello che gli ha dato per scoprire ma la cosa bella è l'errore perché lui comunque ha sbagliato dove voleva andare però nell'errore comunque ha fatto una scoperta che poi è diventata storica quindi la sua storia è una storia che mi affascina perché riscopro molte delle a parte vabbè Ligure pure lui ma vedo nelle difficoltà di quell'uomo un po' mi rassereno perché voglio dire lui ne ha fatte di più lui ne ha fatte sicuramente di più sono passati tanti anni vedi che alla fine sono sempre uguali cambiano le tecnologie se uno vuole fare l'imprenditore si mette in conto che quello è la strada quello è il percorso tu che hai bisogno di così tanto capitale perché siete comunque un'azienda che ha bisogno non hai paura di diluire troppo la tua equity c'è la tua quota nell'azienda questo è sempre trovare questo bilanciamento a proposito di il bilanciamento assolutamente assolutamente questo è la 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 condizione madre di tutti gli imprenditori sapere il momento di ritirarsi sapere il momento quando lasciare andare è come pescare il pesce invece c'è il momento che deve lasciare andare il pesce c'è il momento che bisogna tirarla a bordo questo è la bravura secondo me più questa la bravura di un imprenditore che deve avere rispetto a quello che deve fare poi oggettivamente quindi dosare dosare la forza proprio qui è fondamentale perché a volte è meglio fare un passo indietro ma far procedere il 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 progetto per poi magari riapparire dopo rispetto a prendere una posizione di 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 orgoglio e di impedire no di di farlo procedere quindi quello credo che sia la dote più grossa che deve avere un imprenditore è capire quando staccare quando accelerare quando frenare anche perché avere il 100% di un qualcosa che però non parte mai è avere il 100% di nulla già speso c'è il 10% mi sembra di amazon il 20% forse sì 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 è più chi ti porti a bordo che che deve essere bravo a sapere chi fai salire sulla barca insieme a te e anche quella è un'altra abilità che non è indifferente che non è indifferente e non sempre facile no e si sbaglia e si sbaglia e in generale come ti formi quindi direi G sì sì leggo mi piace più sono onnivoro su tutto devo dire dormo pochissimo e quindi sono sempre online col telefono che da un lato capisco che è un limite ma dall'altro capisco anche che è vero che puoi passare a guardare culi e tettine tutta la notte oppure puoi anche informarti di cose belle c'è di tutto lì sopra ci sono documentari incredibili su youtube ad esempio c'è tantissimi ad esempio uno vuol passare un'ora guarda questo contenuto si guarda questo contenuto qualche pillola oppure può guardare delle scemenze però voglio dire c'è anche della roba che ha uno spessore esatto esatto se non avessi fatto l'imprenditore hai mai pensato cosa avresti fatto nella vita cosa avresti potuto fare beh questo allora ho fatto il carabiniere sì devo dire esperienza incredibile ma militare chiaro e non mi ci vedevo come perché ai tempi mi era stato anche offerto di fermarmi parliamo degli anni indietro voglio dire ancora oggi certo certo non è un signore è un signore lavoro assolutamente anzi ammiro molto anche ma io l'ammiro perché l'ho fatto e quindi capisco il valore che hanno i miei nonni erano carabiniere quindi c'è dietro veramente una passione una roba incredibile ma io non mi vedo cioè mi vedo sempre artefice di quello che era la mia vita io ho anche il rapporto con la scuola l'ho avuto il rapporto conflittuale nel senso non riesco a stare alle dipendenze cioè è una roba mia quindi nasco e quella quella malattia non so chi me l'ha passata perché mio padre non era un imprenditore anche se l'avrebbe voluto fare però anche lì no dipende se poi se è nel momento giusto lui non poteva perché aveva due figli i genitori da mantenere quindi è anche quello un lusso poter diventare un imprenditore poter rischiare di diventare un imprenditore io ho potuto devo dire grazie anche a lui quindi se non ero in questo campo probabilmente ero nel campo della ristorazione perché sì mi piace moltissimo sempre la vicinanza col pubblico comunque anche quello non è un settore facile assolutamente non da sottovalutare non è detto che non finirò lì da Jenny il ristorante da Jenny invece che Mobility diventerà Jenny restaurant può darsi non lo so però è sempre un collegamento mi piace questo rapporto che c'è con con chi usa il prodotto con chi e il giudizio anche mi piace molto il giudizio e la ricompensa è più nel giudizio penso che quelle lettere che ricevi fanno stiano la cosa più importante come tutti gli imprenditori adoro i soldi adoro quello che è la coda ma è è una parte dell'equazione non è l'equazione cioè non è si fa questo per i soldi si fa questo poi i soldi sono il giusto compenso di un lavoro che hai fatto è la giusta è la giusta impostazione cioè devi sentire infatti diciamo sempre nel marketing si parte dal perché perché tu fai qualcosa cioè deve essere un qualcosa che tu fai da dentro con una motivazione un ristoratore deve guadagnare bene perché fa bene da mangiare se fa bene da mangiare le persone ci vanno in tanti quindi guadagna tanti soldi è giusto quando cominci a mettere la roba che non di qualità scade cioè tutti quei sotterfugi che servono a me io quella cosa ti piace molto le serie di Netflix Chef Table ad esempio che raccontano queste storie di ognuno cioè c'è una cultura dietro una passione incredibile quindi assolutamente la domanda ultima che faccio sempre a tutti pensi che il meglio debba ancora venire bella questa domanda molto bella no cioè no nel senso è una domanda molto cristiana dove vede il meglio sempre nel futuro il passato è sempre un passato di peccato il presente è redenzione non l'ho mai pensato in questa io la vedo sempre così la speranza c'è una parola che odio è speranza è la parola della immobilità io spero che qualcuno faccia qualcosa che è la parola peggiore che ti può capitare perché se vuoi fare qualcosa cominci a fare qualcosa invece sperare speriamo che piove e quindi non lo so non ci credo molto nel futuro credo nel presente molto e vedo un passato invece su cui contare di dire vabbè il mio bagaglio il mio bagaglio la mia esperienza poi mi preparo c'è una parola fortissima che mi risuona molto nella testa di un popolo che ha governato per 3.000 anni si è sentito in dovere di coniare una parola che noi non abbiamo adutrunque parato i latini i romani dicevano hanno coniato una roba che noi dobbiamo usare diverse parole preparato a ambedue le cose io sono preparato a ambedue le cose che tu venga come nemico che tu venga come amico io sono preparato questo è e in questo è una bellissima risposta alla domanda prepararsi poi io cosa sarà il futuro francamente non lo so ma io sono preparato che venga da nemico che venga da ottima risposta io sono preparato grazie Paolo mi ha fatto molto piacere averti qua è stato veramente un piacere ti regalo non puoi andare via è XXL XXL è la più grande è la maglietta di marketing garage quindi non puoi andare via senza voglio un video sulla Jenny Zero poi con la maglia di marketing garage grazie grazie a tutti per l'ascolto grazie ciao a tutti